come consiglio per il discorso contratti sì assolutamente ecco chiaramente non siamo come banca non abbiamo complicato competenze magari dal punto di vista legale per poter intervenire e dare consigli troppo chiaramente diciamo ecco appunto dal punto di vista strettamente legale però chiaramente sì se il cliente ci condivide il tutto soprattutto preventivamente prima di mettere in piedi magari di utilizzare un metodo piuttosto che un altro assolutamente siamo disponibilissimi a vedere insieme il contratto vedere insieme la pro forma invoice capire se il cliente ha posto determinate condizioni e quindi se è meglio utilizzare uno strumento piuttosto che un altro ed eventualmente siamo assolutamente disposti anche a costruirlo insieme allo strumento perché la rimessa documentaria bene o male diciamo abbastanza standard almeno come impianto la lettera di credito invece è iper flessibile nel senso che chiaramente può coprire qualsiasi tipologia di di contratto